per dare il premio Corso tanti di quei premi che... Oh shit tanti di quei premi che è... Allorabra sự Paolo, c'è il ferro dei mestieri... Il computer... Mon Stenglie Haka che un computer non c'è ...l Kai 부분 fa tutto a mano C'è il computer... Bè beh, e' anche pesante, dev'essere roba da sordi, capito? e poi c'è il pallone che lo premia Chico Blencini allora Simone Camardese l'ha vinto e l'ha rivinto comunque perché quando mi si intasa la mail perché ci sono troppi comunicati è Camardese che te ne guarda la Serie 2 e anche questo è un ex pallabolista come Camardese in rappresentanza della Scarabeo GCF Civita Castellana questo è un personaggio Fabrizio Migliosi complimenti altro computers eccolo qua ecco qua è un stufilone proprio lui si capisce che c'è l'altro cinghialino no cioè tu mi stai dicendo poi lui è rimasto le fisiche di rocce a Migliosi te cos'è che fai di lavoro che non capito bene? o un'agenzia di comunicazione e comunichi per la... nel tempo libero nelle nostre chat di Whatsapp comunichi esatto esatto in quelle lì nelle partite di Bicciolle con l'antiente bene questo puoi pensare che è un drama individuale però il pallone d'oro se lo pare che se lo sia guadagnato Fabrizio Migliosi viene premiato ma ciao Lorenzo Chicco Prencini da Paolo Cevoli così sembra la cresta di Lucchetta guarda che... la scalentina che carini la scalentina di Lucchetta con il peccino di Lucchetta allora dai carino siamo amici fraterni grazie Fabrizio vai grazie anche a Chicco complimenti complimenti tu che fai? rimango rimango